Oggi vi faccio vedere un custom di Koster, il modello più grande che fa, l'acciaio utilizzato è A2, questo è il modello Survivor, ha una particolare forma che permette l'impugnatura in varie posizioni, l'acciaio utilizzato è l'A2, qui vedete il suo marchio, la manicatura è in micarta marrone, 7 mm di spessore, ha un fondello un po' appuntito e può essere utilizzato per rompere qualcosa, la finitura qui è lasciata grezza, mentre l'altro è satinato, è un grosso utility, questo è utilizzato molto bene nei boschi, in campagna, per tagliare legna, varie cose. Koster Survival